Il collegio giudicante del Tribunale di Patti, Presidente Samperi, all'Atere, Gullino e Corona, ha disposto in data di oggi la remissione in libertà dell'imprenditore di Capodorlando, Enzo Sindoni. Era stato il suo legale di fiducia all'Avvocato Carmelo Occhiuto a chiedere la revoca della misura degli arresti domiciliari o la sostituzione con un'altra misura cautelare meno afflittiva, diversa però dal divieto di dimora a Capodorlando. Il pubblico ministero, dal canto suo, si era detto favorevole all'attenuazione della misura cautelare, propendendo però per l'applicazione del divieto di dimora a Capodorlando. Per i giudici, dopo che per circa sei mesi l'imprenditore è stato agli arresti domiciliari, non sussistendo il pericolo di reiterazione del reato per cui si procede al momento al Tribunale di Patti, il processo per bancarotta fraudolenta proseguirà il 2 ottobre prossimo, si impone pertanto la cessazione della misura cautelare. Da qui, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Avvocato Occhiuto, sono stati revocati gli arresti domiciliari, ordinando l'immediata liberazione dell'imprenditore Paladino.